Ciao a tutti, siamo con Frederic di Lone Rider, sono delle tende particolari che loro chiamano Moto Tent, sono delle tende specifiche per chi va in moto e ovviamente vuole dormire, non nel solito albergo. Facciamo una cosa, gli chiedo di vendermela come se io fossi un cliente come voi che è interessato al suo prodotto. So hi Frederic, how you doing? Hello Pietro, how are you? Let's pretend I want to buy your product, so sell me your tent. Ok Pietro, so here is the Lone Rider Moto Tent, it's been made for traveling with the motorcycle. Everyone working on this tent has been traveling a lot of motorcycles, we tried a lot of different tents. He has three arguments, the first one is the standing high, the tent here is 1.90m high, so it will give you a lot of comfort during long travels and will change your life. The second one, you can stand up in the whole tent, you can remove your clothes, you can borrow all your luggage. The second one is this one, I will give you the mic one second. The whole tent goes into this luggage. So we made it very small, very compact for traveling on a motorcycle. It's 5.5 kg and everything is inside. And the third point is that it can be set up in 10 minutes. So, there are two red sleeves here, in which we will insert two red holes. And then there is a smaller hole, which is black, which will go in the black sleeve. At that point you will have to pull on the tent and it will open. So 10 minutes. Okay. Alright, you can do it. We are told you that who works for Long Rider量 and who gets approved the product is the mie people who are in boat people from the whole life. They know what meaning toات have to be us all daynever before getting a daynever там to bear in front and fury sotto the water the tent itself. The main one is that the tent is built up, designed around and ready to use one meter. 90, quindi dopo che sei stato tutto il giorno in moto, è anche bello poter stare dritti in piedi e togliersi i vestiti in pieno comfort, quindi quello è il primo punto. Secondo punto, e ci fa vedere ancora, tutto quello che vi serve per montare la tenda è incluso in questo piccolissimo pacco, pesa 5,5 kg e include tutto quello che vi serve, dai picchetti ai pali di montaggio ovviamente al tessuto. Terzo punto, la velocità, si monta in tutto in dieci minuti da soli ovviamente, estendendo la tenda ma soprattutto usando un codice colore per le varie parti, ovvero ci sono due pali di montaggio, due supporti rossi che vanno nelle tasche rosse e un terzo nero che va nella tasca nera, quindi a prova di errore. Grazie a tutti per tutto. L'unico problema è che sarà difficile trovare in un clima, nel tante camp, perché è un buon prodotto che quando arriverete al vostro campeggio sarà difficile riconoscere la vostra stessa tenda. Grazie ancora.